Buonasera cari amici del gruppo, mi trovo qua a Busalla in provincia di Genova. Quelli che vedete là in fondo sono i monti del confine con il Piemonte, quella è la raffiniera Iplom accanto all'autostrada Milano-Genova che vedete là sulla destra. Come potete vedere qua sotto sono sul ponte dello Scrivia di Busalla. Come potete vedere lo Scrivia è praticamente scomparso. Vi ho mandato già nei giorni scorsi dei filmati per documentare la gravissima situazione di siccità che si registra nelle nostre zone in tutto il nord Italia e il centro in questo incredibile anno siccitosus 2022. Come potete vedere la situazione è questa. Questa è l'alta valle Scrivia, sempre all'altezza di Busalla, dal ponte di Busalla. Potete vedere lo Scrivia è ridotto in un regagnolo. Guardate come è ridotto, nemmeno alla fine delle state peggiori la situazione era così grave. però questa è la situazione di qua. Il Piemonte soffia un forte vento di ribeccio che ha sostituito il faveno dei giorni scorsi. Temperature quindi in leggero calo almeno sul versante Ligure rispetto ai record dei giorni scorsi. Mentre aumenteranno sicuramente sul versante Ligure, il Piemonte di Carmina, ma comunque la situazione di stermasticità è questa. La valle Scrivia è tutto. La valle Scrivia è un'altra parte.